Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News, come anticipato ci occupiamo adesso di cronaca. I carabinieri di Ragusa hanno arrestato due persone, un suogero e Genero, per furto di gasolio. Si tratta di due comisani, vediamo. Rubano gasolio alla zona industriale di Ragusa arrestati. I carabinieri hanno tratto in fermo due comisani, Genero e suogero, per aver rubato quasi due toletri di gasolio. Era da poco passata l'una di notte, quando un'auto del nucleo radiomobile che stava pattugliando la zona denominata Asi 1 ha notato un'utilitaria che usciva a lenta andatura da una strada secondaria della zona industriale. Il capo servizio ha notato che il posteriore del veicolo appariva appesantito. Il conducente alla vista dei militari colto da nervosismo ha aumentato l'andatura per cercare di evitare il controllo e defilarsi. Ma purtroppo per lui in pochi secondi è stato raggiunto e bloccato. I militari nel portabagagli hanno trovato quattro taniche per carburanti, piene, un tubo di gomma e due paia di guanti lattici. Immediatamente i due uomini incensurati hanno ammesso il loro illecito comportamento e hanno indicato un'azienda di autotrasporti. I militari recatisi presso l'azienda hanno trovato due camion con il tappo del serbato svitato e una grossa chiazza di gasolio in terra, ancora non evaporata. A questo punto i due novelli ladruncoli sono stati accusati di furto aggravato in concorso e dichiarati stato d'arresto. Dopo i rilevi fotodattiroscopici in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale dei due, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Il gasolio, che forse era destinato ad essere ripenduto tra amici e conoscenti per alleviare la situazione familiare difficile dei due arrestati, rimasti da mesi senza lavoro, è stato restituito al proprietario dei camion. E torniamo ad occuparci anche oggi del sequestro compiuto dagli uomini della questura di Ragusa nei confronti di Mario Laterra coinvolto nello scandalo delle patenti facili. Dopo cinque mesi di indagini il procuratore della Repubblica ha firmato il provvedimento. Vediamo. Sequestro di beni e denaro per un totale di 1.250.000 euro è il provvedimento emesso dal procuratore della Repubblica di Ragusa, Carmelo Petralia, ed è seguito dagli uomini della sezione misure patrimoniali della divisione anticrimine della questura nei confronti di Mario Laterra, coinvolto nel 2007 nell'indagine Tuareg che ha svelato un giro di patenti facili nel capoluogo, ma non solo. Il sequestro arriva a conclusione di diversi mesi di indagine che hanno ruotato attorno alla figura di Laterra, all'epoca dello scandalo funzionario della motorizzazione di Ragusa, che era stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e concussione. Insieme a lui erano state arrestate altre tre persone, tra cui l'allora direttore degli uffici della motorizzazione. I quattro in pratica avevano messo su un'organizzazione che gestiva il rilascio facile di patenti per automobilisti e camionisti, in cambio di denaro che ha permesso alla Terra di accumulare un patrimonio immobiliare finanziario non indifferente. Si tratta infatti di due appartamenti, diversi locali commerciali e negozi, un appartamento a Ragusa Ible e tre villette nella zona riverasca di Caucana, per un valore complessivo di un milione di euro circa, e di contanti, titoli bancari e polizie assicurative per circa 250.000 euro. Il provvedimento è stato esteso anche a tre soggetti ritenuti vicini alla Terra, che, è risultato dalle indagini svolte, disponeva direttamente dei beni intestati fittiziamente a loro. E l'importanza della misura del sequestro è spiegata dallo stesso procuratore Petralia. Una delle competenze della Procura della Repubblica è appunto quella, in base alla più recente normativa antimafia del decreto legislativo 159 del 2011, cosiddetto codice antimafia, di proporre misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti che risiedono nel circondario del Tribunale, che siano stati condannati per reati non di tipologia mafiosa, ma che abbiano commesso reati comunque con finalità di arricchimento, finalità lucletative, come lo diciamo, per i quali si accerti la disponibilità di patrimoni non compatibili con le loro normali fonti di reddito. Il caso di specie lo ha dimostrato in modo molto chiaro grazie agli accertamenti che sono stati svolti in breve tempo, ma in maniera molto precisa dalla questura di Ragusa, dalla divisione anticrimine. L'invio a giudizio per una ciclitana di 30 anni, imputata di sostituzione di persone, trattamento illegito di dati personali. La donna in pratica creava falsi profili sul social network Facebook per poi utilizzarli per pubblicare foto prelevate dal profilo personale di un altro utente, dunque inducendo in errore i frequentatori del social network. Lasciamo la cronaca. Ancora emergenza idrica a Ragusa. La di Consom è sempre più sul piede di guerra ed è in fase di elaborazione una procedura per chiedere all'amministrazione il rimborso dei costi sostenuti per un servizio, che mette l'acqua fra i beni di prima necessità e di cui già il cittadino paga il relativo onere. Continua l'attacco di Consum nei confronti del comune di Ragusa sulla questione dell'emergenza idrica. L'Associazione dei consumatori già nei giorni scorsi aveva anticipato l'intenzione di vederci chiaro, paventando anche la possibilità di organizzare una class action contro l'amministrazione. Adesso insieme all'ufficio legale sta addirittura predisponendo una procedura per chiedere a Palazzo dell'Aquila il rimborso dei costi per l'approvvigionamento a mezzo autobotti che le famiglie stanno sostenendo da oltre tre settimane, che, stando così le cose, saranno costrette a sostenere ancora per diversi giorni. Non c'è infatti alcuna novità in merito alla risoluzione della situazione, i pozzi restano chiusi e centinaia di persone sono senza acqua. Adi Consum pertanto invita tutti i cittadini che si servono di ditte private per l'approvvigionamento dell'acqua a richiedere un valido documento di acquisto, fattura o ricevuta fiscale al fine di produrla nell'eventuale richiesta risarcitoria. E se la procedura dovesse proseguire nel suo iter, i costi di rimborsi per il Comune sarebbero non indifferenti. E a ciò è da aggiungere la possibilità che vengano costruiti altri pozzi con un impegno di spesa notevole. Come farà allora il Comune, data anche la precaria condizione finanziaria inquiversa? Tempi difficili dunque per il commissario Rizza, che nel frattempo attende i risultati degli esami effettuati a Catania sul campione di acqua prelevato nei giorni scorsi. Ma, come detto, il rischio è che, anche se l'esito dovesse essere a favore di una possibile riapertura, da Palazzo dell'Aquila decidano di mantenere chiusi i pozzi in attesa di condizioni meteorologiche meno avverse. Tornano a Comiso i volantini che pubblicizzano la raccolta di abiti usati. Questa volta il volantino è apparse in viale della Resistenza. La raccolta è prevista per venerdì. Raccolta di abiti usati a Comiso. Riappaiono i volantini che pubblicizzano questa iniziativa di cui tanto ci siamo occupati negli scorsi mesi, non solo a Comiso ma anche a Vittoria Ragusa. I volantini, dopo diverse settimane di silenzio, sono comparsi oggi in viale della Resistenza. La raccolta, come potete vedere, sarà effettuata venerdì dalle ore 8. Stessa tipologia di merce richiesta, vestiti, scarpe, borse, coperte, lenzuola, tende, tappeti e chi ne ha più ne metta. La raccolta, ricordano nel volantino gli organizzatori, sarà effettuata udite udite anche in caso di pioggia. Ma poi chi sono questi organizzatori? È sempre la stessa domanda che ci poniamo da mesi, da quando abbiamo fiutato che dietro questi volantini si nascondesse qualcosa di poco chiaro. E da mesi chiediamo alle forze dell'ordine di far luce sulla vicenda per assicurare che si tratti di una raccolta a scopi benefici e non, come sospettiamo, per scopi di lucro, ai danni di ignari cittadini che regalano i loro vestiti pensando di far del bene e che invece rischiano di trovarseli esposte alla prima bancarella di turno. L'invito che vi rivolgiamo è dunque sempre lo stesso. Prestate attenzione perché, lo ripetiamo, non è chiaro chi ci sia dietro tutto ciò e per quale scopo venga organizzata l'iniziativa. Cambiamo decisamente argomento. Inizio oggi con il Mercoledì delle Ceneri, il tempo di Quaresima, dedicato alla preghiera e alla penitenza. Si celebra oggi il Mercoledì delle Ceneri che segna l'inizio del periodo di Quaresima. avremo 40 giorni di preparazione alla Pasqua da trascorrere in penitenza e riflessione. Il Mercoledì delle Ceneri, all'indomani di Carnevale, è il primo giorno di questo periodo liturgico, un giorno dedicato più che mai alla penitenza e ad osservare il digiuno e l'astinenza dalle carni. Oggi la funzione liturgica prevede il rito che il celebrante cosparga con un pizzico di cenere benedetta il Capo, la fronte dei fedeli, il ricordo della fragilità della vita terrena e come invito all'impegno penitenziale della Quaresima. Ci sarà, dopo la proclamazione della parola di Dio, dopo l'omelia, la benedizione delle cenere e l'imposizione delle cenere, ricordando quelle parole convertiti e credi al Vangelo quando il sacerdote impone le cenere sul capo oppure ricordati uomo che polvere sei e polvere diventerai. Ecco, la parola di Dio sempre nel giorno delle cenere ci presenta tre piste. La prima, quella della carità. Poi la seconda, quella della preghiera. La terza pista è quella delle piccole rinunze, il digiuno. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento con 15 minuti con ospite di oggi Michele Zisa, esponente di Progresso Sud con il quale ci siamo occupati della gestione della piscina comunale di Comiso. La puntata andrà in onda come di consueto alle 15.20, alle 17.40 e alle 21.00. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito su tvonline1.it Vi auguro un buon proseguimento.